il polacco qui davanti che è un armadio il polacco è tipo il doppio giustamente però intanto in questo caso poco ci fa l'altezza molto di più fa l'abilità hanno dimostrato Iazubu che a loro non manca, di sicuro non manca eh sì mamma mia alla fine volevo fare qualcosa del tipo suona che correva dietro a Nuno e Nuno, Nuno, Nuno tipo no bellissima anche la BDNU stupenda tra i rubri che ristalla eh beh, cos'è no, veramente MVP sicuramente ha distrutto completamente la povera Legion non poteva fare niente veramente devastata e una volta è sceso non ce n'era più per nessuno non ce n'era più per nessuno TPA non sono in questo torneo mi dispiace non ho considerato questo torneo per chi non lo sapesse i TPA hanno anche creato un secondo team chiamato TPS Taipei Snipers no, non Snipers no, sì, Snipers sono Snipers e ci hanno messo dentro il loro supporte capitano il loro supporto capitano che è appunto Mistake l'hanno messo a fianco un altro dei TPA GodJJ per chi non lo sapesse un altro sempre dei TPA molto bravo e funzionano estremamente bene insieme e appunto hanno costituito la spina dorsale del secondo team che da come sembra è tanto mostruoso quanto il primo quindi li vedremo probabilmente mamma mia due Taipei Assassin Dio ci salvi madonna già uno era tanto ma due pesantissimi diventano sì 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 io con questa con la fine di questa partita per stasera vi saluto vi lascio nelle mani di Sarengo God per l'ultima ci rivediamo benissimo un salutone a Life Pizza che ci ha fatto buonasera tutta questo pomeriggio grazie a lui buona serata domani ti rivedremo sì credo domani non so se riesco a fare un salto molto volentieri se no domenica va bene va bene va benissimo ciao Life siamo domenica per le finali buona serata a tutti e buon proseguimento e buon ultima partita della serata grazie mille allora l'ultima partita dovrebbe essere una scelta tra loro non nostra ovviamente tra i Gambit Gaming e i Meteor Wakers oppure la 2Blaze contro Curse oggi non abbiamo potuto scegliere niente abbiamo avuto un cazzo oggi siamo per stare zitti e buoni agli ordini dei polacchi mamma mia così c'è finita è finita così oggi ma io me lo sentivo dentro sì lo sentivo vabbè capita capita eh spero che oddio non lo so quale quale delle due mi è piacere vedere vedremo vedremo vedrò comunque in teoria Gambit verso Missy Meon Maker perché cioè gli Azububless sono qualificati quindi secondo me non è che frega più di tanto oppure se sono come i coreani fanno gli asfaltiamo tutte le partite zitti e muti perché siamo noi dovrebbe essere circa dieci minuti la prossima alle sette se non sbaglio credo proprio di sì vediamo sono sì a 19.15 16.45 quindi dovremmo finire ben prima di quanto ci aspettavamo no 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 l'orario era sì sì era quello 19.15 era per le 20 20.45 massimo siamo partiti prima sì sì vogliamo mandare dieci minuti di pubblicità ma sì spammiamo le pubblicità che dobbiamo andare alle ma chi è che che fa chi è che fa ritorno troviamo è Sarengo bravo bravo complimenti ma no non mi si accende neanche la lucetta io intanto ti mando pubblicità così a dopo a dopo a te già l'ho mandata e poi vabbè spera ma tu riesci ad entrare nel coso niente io niente di niente io no io sto ancora là dentro tipo tutto il giorno sì ma non sei andato su custom non hai visto se potevi entrare nelle partite e spettare che posso giocare no questo no spettare perché dicevano che crashava ah non ne ho idea questo non lo so sono solo sul client basta comunque non ci sento non siamo non lo so qualcuno ci sente qualcuno no allora si che ci sento eh ma non doveva partire pubblicità oh mi sto sbagliando sì sì la pubblicità è partita è già finita è anche finita no perché non tutti vedono la pubblicità sai come funzionano gli adverts vero? alcuni sì altri no alcuni sì altri no dipende se l'hanno vista in altri canali se l'hanno vista troppa se se per la loro posizione geografica deve essere vista quindi noi non abbiamo modo di mandare una pubblicità per io premo il boltone commercial poi eh no quello dipende da quando hanno impostato perché magari loro vogliono che quello che abita a Roma non la vede perché non gli ne frega niente del romano no non la fa vedere e comunque siamo bentornati in onda e chi ha vinto fra Gambit e Curse hanno giocato Gambit e Curse sì hanno giocato Gambit e Curse hanno giocato ho rimosso rimosso totalmente non mi sono piaciuto perché in tre partiti oggi c'era quel bel face check da parte di sì 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 da parte di Wukong oddio in realtà cioè nel senso la prima è stata veramente un bel display di skill da parte di coreani mi è piaciuta ovvio sì è stato è stato uno stomp comunque però è stata veramente una bella partita pulita cioè hanno fatto veramente una bella partita pulita i coreani hanno dimostrato come si deve gestire un vantaggio quello sì ovviamente i Gambit non sono fuori ti ho mandato un messaggio di S i Gambit non sono fuori devono avere culo se hanno un culo inribile sì perché è successo che gli Azubu sono andati a tre quindi i Meteor Makers stanno ancora a uno e quindi dobbiamo vedere adesso la prossima partita e a che ora startavano alle dovrebbe essere alle sette credo alle sette vabbè quindi che famo dipende da cosa ci propongono appunto dalla regia stanno facendo un attimino i replay se vogliamo commentarli no no non c'è frega in partita è brutta in partita è brutta brutta quindi comunque sostanzialmente sì il fatto che Meteor Makers cioè Gambit stanno dietro 2 Kurs 1-1 Meteor Makers 1-1 1-2 o 1-1 pure Meteor Makers no 1-1 sì perché hanno vinto contro che erano i Kurs se non mi sbaglio e poi hanno perso contro gli Azubu Blaze bene e allora stiamo fiduciosi che ci diano nuove indicazioni ci facciano capire un attimino cosa no ma non abbiamo indicazioni che ci facciano capire appunto da Katowice che cosa hanno intenzione di fare ma sì possiamo anche cazzeggiare beh allora tirate fuori qualche domanda simpatica dalla chat così che parlegiamo in tranquillità beh no vabbè quello che cosa volete sapere dai su una domanda qual è il colore preferito di Gold se sì qual è il colore delle mutande che usa Sarengo dicono gli Azubu sono molto forti beh va che è di la tua sorella quale sorella non ne ho una non ne ho una guarda no ragazzi se avete domande fatele siamo qui apposta e se volete abbiamo sempre a disposizione eh Searsnake ci dice ma ha senso mettere su Vayne le mark dell'attack speed oddio sacrifichi tanto però in early game perché avere un minimo di AD sulle rune ha aumento di gran lunga la tua capacità di rassettare e avere un minimo di armor penetration aumenta di gran lunga la sua volta la capacità di fare danno ai champion sacrificare uno delle due per avere un po' di attack speed sicuramente aiuterà in late game ma in late game già distrugge tutto io non lo vedo proprio worth comunque è un'opinione personale questa non è sicuramente sono viabili volendo se proprio le vuoi mettere non è che fanno totalmente schifo però non sono orsi il massimo da quello che puoi far rendere appunto dalle tue dalle tue rune avere la speed migliore vuol dire avere poi oggetti migliori quindi in sostanza poi vuol dire avere comunque statistiche migliori è un investimento per comprare più oggetti sostanzialmente intanto vedo che è anche una scomparsa di Alistar che è molto interessante è stato creato nel nerf poco poco è stato creato nel nerf che si spera che dopo questi revert possano appunto cambiare in particolare è stato molto presente il nerf di quel 50 che sembra poco ma in realtà ha fatto davvero tanto sull'headbat che è stato proprio cambiato nell'ultimo patch vedremo se che ritornerà in auge o comunque un po' di più anche perché ci sono diverse altre cose che hanno contribuito alla scomparsa per esempio il fatto che non possa più gestire la giungla dalla season 3 e almeno prima lo si vedeva anche in giungla mentre qua non si può proprio vedere perché purtroppo non la regge non la regge proprio non pulisce un po' proprio pulisce no 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 morire by golem secondo me vedremo 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 oltre anche alla alla facilità con cui i champion come non ne so lulu rompono la sua la sua carica per chi voleva vedere i gambit niente niente a due blaze con il course pare di sì perché i course mi dicono che hanno vinto il coin toss e hanno piccato il blue side ho capito ho capito esistono ragazze che adesso fai scordecenti di brutto ho visto ragazze che sono molto più pro di me sono tutte bustate non esistono ragazze bravi non esistono ragazze su internet ricordate fanno il culo al 90% di voi ve lo dico io le ragazze che vi stream tipo afu non esistono ragazze su internet qualche altra ragazza che streamava sull'americano non so come facessero ragazze con quella ragazze perché ogni volta facevano dei fail non ci stavano dentro però no teoricamente ti sei fatto una domanda a cui ti puoi rispondere benissimo da solo guarda hanno aumentato il range della wd alistar proprio per ovviare questo problema che l'hanno nerfata e hanno visto che era troppo non funzionava proprio cioè gna facevi e quindi hanno aumentato di 50 il range che era stato nerfato due o tre patch fa una roba di gemma no un po' di tempo fa forse quest'estate addirittura no no più recente più recente più recente tanto ne hai ricevuto tanti nerf alistar ne hai ricevuto davvero tanti di nerf sono le ragazze che sono migliori del 90% di voi quindi fidatevi che non c'entra assolutamente niente ragazzi no no ragazzi in teoria non deve sembrare nulla cioè effettivamente i dati sono un po' sconfortanti perché i ragazzi a lol ne giocano veramente poche se non sbaglio l'altra volta avevano tirato fuori la statica che erano il 90% guarda che non è che sono le ragazze che giocano poco a lol sono poche le ragazze che giocano in generale più che altro sono non è che sono poche molte giocano ma sono a livello casual sulle console molte di meno sul computer vabbè è una questione anche turale sia italiana comunque poi anche mondiale insomma la ragazza al videogioco è meno anche a livello di società è meno propensa ad andare sul videogioco anche perché mettere mettere una console in cucina è più facile che mettere un pc in cucina no 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 ma no ma non lo dico perché dovrebbe essere così dico perché in questo momento è così in cucina in cucina in cucina mi scuso per la soga professionalità mostrata dai miei compagni di avventura qua presenti no ma ma guarda che a noi ci piace trollare solo quello è morta god si era esplosso super tosse inside è qualcuno che ti manda le c'è qualcuno che mi manda ma sai io che vabbè no cerco di essere neutrale ogni volta quindi mi mandano pure le maledizioni voodoo ovvio ovvio ok intanto sul sul poll di facebook vedo che solo 6 hanno votato a Zububblades oh miscredenti quando io vi dico che vincono quelli vincono 31 persone ma senta perché come va su facebook 31 per i gambit 10 per il team 6 per il strano che quasi dura ragazzi anch'io amavo i Moscow 5 ma a quanto pare di più adesso che non ti soddisfano eh no traditore traditore ho bisogno ho bisogno in questo momento i Moscow 5 non riescono a non riescono a soddisfare quindi ora dirò una parola a molti di voi non sanno neanche che esistesse volta gabbana mannaggia a te mannaggia a te vedremo per domenica che molti sicuramente cambieranno il loro voto in un voto più consono alla situazione ma che poi tra l'altro gambit vincitori ormai se lo sogliano per questo torneo no ragazzi viate il voto finché si in tempo perché non c'è più mi sa che non c'è più da credersi purtroppo per questo torneo assolutamente no con l'amaro ma non si si può fare niente no che amaro prendiamo un limoncello che è meglio buono un limoncello oh mio dio questo diciamo bye al sarengo comunque quando inica frank ci dice frank inizia fra circa alle 19 era in quarto sono io si si in teoria si intanto ci stanno facendo vedere il pubblico quindi pochi minuti è in una quindicina di minuti neanche loro sanno più che dire inquadrano il pubblico ragazzi ripetiamo un attimino parliamo un attimino delle novità che arriveranno su LOL tra poco ne abbiamo parlato all'inizio dello stream ma probabilmente molti di voi non erano neanche connessi abbiamo diversi cambiamenti addirittura d'arrivo appunto su LOL in particolare i cambiamenti più grossi saranno il prossimo campione trash che già potete vedere nella vostra lista campioni non ancora liabilitato abbiamo la modifica del sistema Ranked non ci sarà più livello tra poco meno tre settimane tra poco questo nuovo sistema con i tier e le division verrà introdotto sul PBE e con l'inizio della season 3 si avranno anche altre modifiche per esempio il cambiamento grafico ad ENI e cose del genere se avete domande fatele ripetiamo quello che avevamo già detto che almeno le mie impressioni personali sul champion trash molto bella la passiva non so se sapete se conoscete la passiva è appunto tutti i mostri in particolare quelli più un po' grossi tipo carmatoni o i mostri che droppano le rune nella giungla droppano delle anime nelle anime che se raccolti danno bonus armor e api questo è un bonus abbastanza consistente che vi permette di guadagnare fino a circa 70 di 60 80 di statistiche in una partita normale quindi è sicuramente un bonus consistente per quanto riguarda sia gli api che l'armor ed è molto divertente anche perché ogni volta che vedete una soul cadere voi dite mia 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 e se non potete andare lì vicino a prenderla perché la dovete andare a prendere proprio sopra dove spawna potete anche usare la vostra lanterna che è appunto la vostra skill targata W per raccattare appunto questa anima appunto Trash usa la sua lanterna come diciamo contenitore per le anime infatti quando muore anche vedete la vostra anima stessa ritornare nella lanterna molto figa l'animazione di morte animazione di morte è giusto e abbiamo la prima skill la Q che è appunto uno pseudopull che pulla un pochettino i nemici se li prendete vi permette di lanciarvi contro di loro alla Mumu alla Spiderman e subito dopo avete anche una disposizione una skill per poter teleportare i vostri amici vicino a voi quindi se riuscite a prendere in castagna un qualche nemico avete la possibilità grazie alla vostra lanterna di posizionare magari un off tank per esempio o un tank a fianco al vostro target e decretarne sicuramente la fine infine abbiamo gli ultimi due skill che sono una una spazzata che appunto fa un piccolo knock up molto simile a Maokai e infine una gabbia di vegar attorno a voi che invece di stunnare slow e fa molto molto danno sono due abilità che danno il meglio di sé in condizioni particolari la terza la si usa prevalentemente in gank o per farmare mentre l'ultima è in teamfight altrimenti si sente davvero poco per quanto riguarda appunto l'ultima cosa è la passiva della Q che gli permette di avere un danno in base sempre a quante anime avete raccolto più anime avete raccolto più questo bonus cresce quindi vi consiglio di provare questo appunto questo appunto champion e questa nuova meccanica perché è molto bella l'altra parte non so si? no no vai vai l'altra parte non so quanti voi lo potranno provare in quanto la prima settimana questo champion costerà 7800 IP a differenza di a differenza di 6300 perché tutti i nuovi champion nella prima settimana costeranno 7800 è una nuova politica in contemporanea verranno ridotti i costi di alcuni champion in particolare i prossimi champion saranno Yorick e Udyr e subito dopo a seguire ci saranno Leona quando uscirà il prossimo champion dopo questo e Wukong quello dopo ancora per il resto vedo alcune domande se le avete fattele comunque si vi possiamo tranquillamente rispondere quando ci sono questi punti morti diciamo tra pubblicità dello stream comunque mentre si aspetta che si si prepara tutto per la partita volete fare qualche domanda così per di perché Zaira qualcosa perché Zaira viene preferita come support rispetto a mid eppure non scala così male anche a livello di TF porta parecchio utility è anche vero il contrario perché anche a livello di danno se sei support ne porti comunque parecchio l'utility non viene intaccata ovviamente dal tuo ruolo e tanto tanto fanno le piantine le piantine danno veramente fastidio in linea permettono di zonare un un avversario in mancanza di sustain appunto della bottom lane avversaria e danno tanto fastidio per esempio nel caso di skillshot o cose del genere ha veramente tanta utility Zaira soprattutto ci mettiamo anche il fatto della passiva la passiva che diciamo beneficia anche se ti sacrifichi per il tuo compagno e permette magari per esempio al tot carry di ottenere una bella double kill per il resto Heigar può essere usato mid o comunque voglio anche mettere in pari un trade andato un po' male sì 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 Heigar può essere sicuramente usato mid senza problemi anche se non viene usato a livello competitivo a causa di un suo early game non proprio brillante vediamo quanto l'early game possa essere importante in queste partite e a causa di una sua mancanza di mobilità certamente in una sua team comp ha decisamente molto più senso ha molto più senso ancora se usate come counter pick invece che come pick ammettiamo che abbiate conto un personaggio che stacca in maniera allucinante e molto difficile da prendere la classica Lux di merda Lux virgola di merda al suo bel meggiaia 20 voi fate un bel flash ulti e lei esplode pom dai povera Luca perché ce l'avevi tutti perché c'è una risata odiosa l'altra volta l'altra volta sto prendendo l'esempio di un champion che può staccare a P diciamo rimanendo relativamente safe capito e poi mi piace team non vado a prendere Veigar contro una non so una Diana una Diana che mi zompa addosso e se cerco di tirarne l'ultimate mi spara una zonaia e anche se la prendo con l'ultimate c'ha comunque l'abyssal questa non sa capi deve usare comunque parte dei suoi soldi per ottenere altre statistiche invece una Lux si può fare anche un Magi che funziona bene lo stesso e che cavoli allora lei va bene una bella ulti di Veigar in faccia sempre sempre si bene un counter pick vabbè c'è anche si? no ce n'è un po' interessanti c'è più là vabbè sul ruolo più difficile la possiamo penso che si possa liquidare facilmente ragazzi non c'è un ruolo più difficile ogni ruolo ha le sue particolarità bisogna stare attenti a diverse cose dipende dalla vostra attitudine a fare diversi svolgere diversi compiti c'è chi sta da solo può andarsene in top lane e spuntare in partita dopo i 25 minuti c'è a chi piace giocare in coppia può andare bot lane non so chi piace farmare tanto può andare mid una roba così però non c'è un ruolo che è particolarmente più difficile dell'altro e poi c'era vabbè un ragazzo che chiedeva Cassadin non è viabile per l'erli penoso anche si l'erli penoso fa tanto è molto facile e complicabile mettiamoci addirittura Froggen gioiva quando al suo pic di eniva rispondevano con Cassadin metteva le rune a D e sfondava di mazzate di palline di ghiaccio il Cassadin che si ritrovava di fronte Cassadin ha un Erli molto facilmente esploatabile ma non solo ci mettiamo anche il fatto che in un contesto di di competitive play diciamo contro un team organizzato è molto più difficile sfruttarne il vantaggio è ottimo Cassadin è davvero ottimo nella solo QIU in solo QIU potete prendere il vostro Cassadin spanare il tizio mid andare a gancare ovunque e carriare il vostro team in un contesto di un team un po' più organizzato di competitive play eccetera eccetera la sua la sua viabilità sicuramente ne risente dopo di che c'era il camping per Catarina si basta che prendi i cc qualcosa con dei cc più cd questo anno meglio è esempio classico ma ok ha la Q che ha un cd bassissimo e si può spammare quando quando si vuole tac e via uno facile facile che viene subito in mente può essere Chogat anche Chogat con un bel silence di 2.5 secondi a OE non vi piace addio Catarina non fa assolutamente niente e se missa quello c'è sempre la Q e se missa pure quella gli tira una nommata e vedi che Catarina scappa via si tipo per sicurezza ti ho ti ho si è riuscito ad odiare insomma tutte le mie schifo io ti mangio per sicurezza no problem infatti sia top che in giungla in questa nuova giungla la distrugge grazie allo spam di Axe quindi è sia buono come jungler sia buono come top pari pari due info in questo momento è esplosivo in entrambi i ruoli due info allora mi dicono dalla chat che probabilmente streameranno Meteor Makers contro Gambit perché chi vince dovrebbe arrivare secondo perché se gli Azubu vincono i Meteor Makers devono sopravvivere più di 27 minuti e 38 addirittura se vincono gli Azubu devono sopravvivere cioè non devono farsi battere che brutto ma no questo già diamo prestato che i Gambit faranno assedio finale ai Meteor Makers è possibile che perdano esatto e no non è possibile che perdano allora cosa vado a fare ah giusto è vero ah no si c'è ragione i Gambit che faranno vinceranno no hai ragione hai ragione piccolo fail dunque è scritto nella B di armi ragazzi si è ormai è scritto i Gambit questa la avete presente tipo i Warcraft quando c'erano i livelli in cui dovevi solamente resistere sapevi già che avevi perso però se resistevi tot magari tipo il portale d'evocazione si apriva sono tipo il prete quello che va a gire a fare YOLO 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 no 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 è YOLO la cosa bella era usare i trucchi per vincere lo stesso quelle partite che gli scenari era stupendo dai lì distruggevi tutto avevano mille miliardi di unità di edifici madò e quindi vediamo Gambit versus Meteor Makers e se i Gambit vincono bisogna vedere quando finisce l'altra se vincono i Meteor Makers se vincono gli Azubu se vincono gli Azubu i Meteor Makers devono resistere almeno 28 qua aspetta fammi rileggio quant'era 27.38 secondo me vincono i Meteor Makers puliti e basta anche secondo me devo essere sincero avete presente quegli emo lanciati così emo in my honest opinion secondo me è mica puliti però va bene nel caso gli Azubu vincessero e quindi facessero andare i course a 1-2 e i Meteor Makers dovessero comunque perdere e quindi rimanere a 1-2 come gli stessi Gambit che vincendo contro i Meteor Makers andrebbero a 1-2 quindi sarebbe un 1-2 per tutti e tra i team che non sono gli Azubu a quel punto per passare ai Meteor Makers servirebbe resistere contro i Gambit game event più di 27 minuti ma se vanno vanno a 2-1 perché poi nella chat i course non li hanno neanche contati già avevano detto che il secondo posto se lo stanno giocando loro ma avete lo stesso ragionamento i course contro i Azubu perdono quindi non ci sta quel 2-1 dei course non lo fanno no no sì sì ma infatti nella chat quella di Skype si dicono che se questo è il costo cioè poveri i course cioè proprio avete finito infatti sono là tutti che scrivono fanno sì sì vabbè ma metti in caso che adesso i course vincono contro i Azubu e fanno questa magia cioè non è che hanno detto ma magari tipo course vincono contro hanno fatto se i Azubu vincono tipo scontatissimo poi i meet your ma che devono sopravvivere 27 minuti e 38 rispondiamo alle ultime domande poi andiamo in Champions Select abbiamo il PG più zancoso è un po' difficile tradurre questa domanda abbiamo ti posso dire senza oggetti mi sembra sembra shivana no attenta ti posso dire posso dire non so il personaggio che ha più HP a livello 1 che è GP oppure appunto senza oggetti quello che prende più botte sono indeciso tra shivana e poppy ma quello non ha molto senso questa domanda poi i counter di shako dicono che shako i minuti dopo 30 minuti dipende da come uno si builda in particolare abbiamo comunque dei jungler che si devono comunque gestirsela da solo la giungla non devono temere appunto invasioni se hanno sustain ancora meglio per esempio non lo so un feed un warwick un warwick è veramente perfetto in quel caso Lee Sin è troppo worth it contro shako perché rivela i nemici dall'invisibilità quindi nel caso shako in realtà il miglior counter di shako avrebbe buoni occhi per vedere i puff quando ganka e quindi Lee Sin non è migliore in questo senso perché essendo cieco oh mio dio oh mio dio l'ho capita solo adesso va bene andiamo avanti va bene qualcuno lì ti sarengo vi prego carne non viene usato perché con il passaggio nella season 3 ha perso veramente tanto in favore di altri per esempio anche il nerf che gli hanno scarver anche il nerf che non può più ultare un personaggio che flascia e lì ha perso veramente tanto ci sono tanti altri personaggi molto simili che fanno che fanno cose meglio di lui un esempio ekarim per chi non l'avesse provato provate è bellissimo ekarim è veramente è veramente una forza devastante secondo me l'ultimo addirittura buff che hanno fatto al lizard gli hanno aggiunto un 10% di cooldown reduction ha veramente rotto ekarim ekarim rusciate lizard kindle gem glacia shroud avete il 35% di cooldown reduction e sarete delle bestie sarete delle bestie e poi è bellissimo quando corre senza recipienti il 10% cooldown reduction senza niente senza niente non vogliamo non è che costa non si è sgrava cosa da 50 di AD per un oggetto che costa tipo 2.100 50 di AD più la passiva che è l'altro damage sulla sua Q più il 10% di cooldown reduction è veramente fortissimo va bene è buona e adesso abbiamo entriamo nell'ivo il game che vedrà i gambit contro i meteor makers abbiamo subito già completati tutte e due le formazioni wukong kyle deliz sono i ban che hanno preferito fare i gambit mentre i meteor makers non hanno voglia di vedere le scene Miss Fortune ed Evelyn Alex Hitch andrà probabilmente mid ormai usiamo il probabilmente perché non si non si sa più con Kazil mentre Darien top lane con con Renekton Jin Zhao come il buon Sarengo ci ha sempre detto di dire non esiste Xil in cilento non esiste non esiste non esiste quindi ci dobbiamo attraverso quindi daemonprox appunto ci farà questo cinese in azione Genja con Ezreal persona per Edward mentre meteor makers andranno top lane con Jice in giungla con Shen no scusate non è top lane Jice è probabilmente mid che in top dovrebbe esserci Olaf in giungla Shen e giù Sivir Nunu è Sivir o Nunu per ma piccato però o come Olaf Olaf e Nunu per ma ora sarei curioso Kha'Zix appena non è stato ma è nato subito instant lock da parte degli MFI Gambit Gaming scusate Latsus e vedremo se sarà abbastante come è stato in tutte le partite di oggi Kha'Zix che abbiamo visto nell'ultimo è stato nerfato però curiosamente nessuno dei suoi punti di forza hanno nerfato la Q e la passiva la passiva è l'unica cosa che forse potrebbe interessare ricordiamo che appunto la forza di Kha'Zix sta nella sua W evoluta e nella nella sua E soprattutto con il reset almeno è stata la Q particolare questa scelta vedremo se nei prossimi torni influirà in qualche modo o comunque nella sala Q ma gli AP Mid che fine hanno fatto? è una domanda questa che ci viene direttamente dalla regia la differenza tra AP Caster e AD Caster è andata diminuendo fino appunto a vedere una cosa del genere a volte si vede una P a volte una D a volte a volte questo a volte quell'altro comunque una cosa fondamentale timiamoci per il io sto 38 39 sono avanti dammi refresh perché quello lag ma tanto poi ogni volta che è lag devo refresh sì sì comunque intanto armi refresh vi possiamo rassicurare che non ci sono fino a questo momento grosse sorprese che si vanno ad accumulare uno dopo l'altro nel bush top lane nel tribush top lane Darien a guardia con questo coccodrillone gigantesco del blu di Diamond che probabilmente farà le bright come start infatti Jace lascia perdere non tenteranno probabilmente un invade più che altro forse vogliono evitare un invade avversario vedremo se poi ne avranno l'intenzione difficile perché Olaf si va a posizionare vicino i lupi per iniziarli proprio in questo momento mentre identica cosa fa scusatesi Diamondbrox ha aiutato D'Alex Hitch a fare appunto i lupetti piccoli mi aspetto c'è un invade da parte dei Meteor Makers sono solamente quattro non so se vanno con sicurezza perché non dovrebbero aver visto Ezreal Sona spottati solamente adesso ma comunque Meteor Makers di prepotenza rubare il blu Sona va al blu avversario ottima giocata per lei garantisce appunto Diamondbrox che si vede rubato appunto il suo e si vede appunto conteso questo blu da Olaf che danneggia pesantemente devo dire Jinzao che in qualche modo riesce a prendere il blu flasha via per paura dopo l'ignite appunto su di lui flasha via lo aiuta Edward con Sona utilizzando anche l'ignite per cercare di dissuadere Olaf da intenti abbastanza cattivi quindi azioni molto concitate nella giungla dei Meteor Makers flash è andato via per Diamondprox che però comunque riesce ad avere il suo il suo blu buff vediamo questa questa giocata della Sona che ha avuto un dublice obiettivo non solo ha assicurato il blu al suo jungler ma ha impedito a Olaf di farselo una pratica che ormai vediamo molto spesso in questi casi in particolare con Olaf che è uno dei migliori con cui effettuare questa strategia è proprio quella che nel caso di una versus 2 bottom lane blue side scusate purple side vedere l'Olaf di turno farsi il blu per guadagnare un vantaggio di livello e poter stare sotto la torre senza problemi e oltre a quello avere il blu per poter sparmare asce su asce e poter sparmare in tranquillità anche uno contro due intanto vediamo Shen che si avvicina alla top lane ci potrebbe essere il classico drive 3 contro 1 si iniziano i flash out ma di Shen no problema per loro first blood da parte di Mim mamma mia che precisione sono estremamente consistenti i Mim in questa in questa pratica l'hanno imparata davvero bene l'abbiamo vista applicata ogni volta che abbiano che gliene sia stata data possibilità dal primo game che ha messo in ginocchio quel first blood il povero Darian anche adesso prendono anche la torre praticamente e vediamo cosa riusciranno cosa si inventeranno subito dopo questo si torre in in 4 minuti e mezzo viene quasi da ridere mentre Sivir e Nunu devono scappare via dalla giungla appunto avversaria perché torna Torna Renekton a presidiare appunto la top lane Re Calla Diamond Prox ma sono ancora lì tutti e tre il trio delle meraviglie Nunu, Sivir e Shen Shen che presidia il bush del blu avversario guardatissima appunto dei dei gambit che stanno soffrendo in quest'early game con un ottimo dive di come ricordavi tu in 3 contro 1 fatto appunto da Nunu Sivir e Shen che ancora sempre lì a mettere pressione in top lane infatti la regia ce lo mostra proprio in questo momento ancora lì a cercare di distruggere questo povero questo povero Darian che si mette in salvo grazie al suo dash e cerca di fare il più possibile quello che può ancora tre persone tre persone in top lane mid lane però lasciata completamente da sola e infatti sia Alex Hitch nuovo il dive però i due dash garantiti dall'aver colpito un nemico con il primo appunto per Darian gli permettono di scappare via con una buona una buona agilità anche se ha praticamente perso quasi tutti gli HP di nuovo aggressivissimi i meteor makers stavo attaccando addirittura la seconda torre se non arriva Jinzao intanto vediamo abbiamo visto come mid Zaro abbia pushato due volte e poi si è andato a gankare nella bottom lane viene spottato ancora una volta dalla ward presente nel river pusha per permettere a Olaf di recollare Olaf che adesso probabilmente andrà ad occupare la top lane lasciando appunto a Nunu Siver il compito di tenerla la volta Siver sta facendo un giro no sta andando mille invece Siver niente come non detto è top lane che si fa veramente ardua per Darian perché si trova senza torre dietro e se Olaf affazzecca la prima ascia da lì non si scappa più praticamente anche perché è una situazione complicata sono molto molto assivi il duo Nunu Jace contro la povera Zona che si vede in faccia uno blast che faceva ha fatto malissimo e infatti subito Ghost in Night sul povero Darian come avevo sospettato forte del fatto di non avere di non aver problema di Tower Dive insegue Darian costringendola al Flash Ghost per Flash ma ricordiamo che il Ghost si ricarica si ricarica prima del Flash avversario quindi penso worth per Olaf che ricaccia via di nuovo dalla lane Darian ancora con un farm abbastanza poco ma poco consistente meanwhile si ha dato tale Flash mid aveva ancora il bar a disposizione ma comunque di usare il Flash e di percollare nonostante fosse ancora quasi full vita si vede che l'aggressione di Kha'Zix è stata un qualcosa di molto brutto non se l'aspettava strano anche perché grazie appunto al suo scudo dovrebbe riuscire a mitigare buona parte dei danni o lo Zomp o la o la Void Spike dovrebbero appunto essere annullate dal dal suo scudo si tra l'altro skill abbastanza diciamo tra virgolette prevedibili non sono neanche così veloci da non potere scudate quindi Sivir diciamo si trova abbastanza bene si dovrebbe trovare abbastanza bene contro Kha'Zix mi chiedo se non l'abbiano fatto apposta a lasciare Kha'Zix libero sapendo di aver trovato un counter boh non lo so se non l'hanno mai se non l'hanno mai trovato nessuno magari potrebbero essere loro i primi vedremo 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 ma per Kha'Zix può essere sicuramente una buona cosa l'unica pecca che può avere non avere non avere escape e quindi magari qualche problemino dopo aver scudato può comunque può comunque continuare ad esistere anche se non facendosi soguare tutti ballano tranne te no niente comunque torre bot lane aggredita dai gambit che si sentono evidentemente più forti in questa lane non usivi contro Sonezreal i danni di Sonezreal sono veramente tanti quindi ci può anche stare che non siano appunto non abbiano una gran supremazia i due dei meteor makers soprattutto il basso range di Sissiver beh sì sicuramente Olaf che si trova ancora in lo ritroviamo di nuovo in giungla come Saren? la bottom lane la plane è stata lasciata a se stesso ai minion non c'è più nessuno che gli ne frega niente nessuno pare interessarsi hanno fatto torre sono tutti in giro per la mappa infatti Olaf è andato a fare i lupi così per non avere nulla da fare e intanto c'è un engage da parte di Darien su tre dei meteor makers Darien pochissimi HP per lui cerca di scappare Olaf che balla un po' tra i nemici cerca di andare via Shen cosa che però non gli riesce viene seguito da Diamond Prox cercando di appunto di ucciderlo cosa che riesce a fare prova un minimo bait Olaf ma molto furbo Darien non ci casca torna indietro e va ad accumulare va a mettere in saccoccia quel po' di vantaggio recuperato rispetto ai meteor makers adesso forti del 4 contro 5 è resato Shen ancora l'ultima di posizione di Gambit l'ultimate di Sona combinata con Ezreal veramente un'ottima combo riesce ad arrivare Shen con l'ultimate su un proprio compagno ma ancora Genja impedisce qualsiasi tipo di di recupero appunto ai meteor makers che pur non contestando il drago e quindi non facendolo fare ai Gambit ne escono ancora perdendo qualche pezzo non riescono ad ingaggiare i meteor makers sembra che appunto la composition non gli permetta ciò riescono a chitare tranquillamente grazie a Ezreal e nel caso e al POC di Kazix nel caso riuscissero appunto a ingaggiare ci sarebbe sempre lo stand di Daria in pronta disposizione l'ultimate di Jinzao per cacciarli via e comunque l'Arkane Shift nel caso delle cose andassero proprio male o l'eventuale zompo di Kazix va in top lane e si diverte ma quanto è bello farli armare così con Olaf io mi diverso troppissimo a farmare così è un godimento proprio neanche neanche lo yogurt ci può veramente è una cosa che non ci si sta dentro intanto ci riprovano immediatamente stavolta non contestato per i meteor makers questo drago preso immediatamente dai Gambit che lo fanno loro e continuano ad aumentare un po' il vantaggio che adesso si concretizza in circa 1000k non tantissimi ma sicuramente utili questi 1000k le aiuteranno sicuramente e vedremo se riusciranno a mantenere questo vantaggio nei prossimi minuti abbiamo i primi oggetti una Sunfire in costruzione per Darien l'Avrigo completata su Jinzao devo dire che non è che mi piaccia tanto se si vuole sustain su Jinzao è meglio prendere a picche la Fstia bastava il Mardredino abbiamo la VR insieme al Brutalizer per KazX la BF per Ezra completata in BT in questo momento mentre ancora BF più è presente nell'inventario di Sivir Rush di Sides su Sona che dovrà recollare e spendere un po' di soldini che avrà accumulato stesso equip per Nuno che sfoggia solo giusto un feliciarmi in più Brutalizer anche per Jace che skippa la TR in favore di ancora più AD e probabilmente il teleport da parte da parte di Jace che tenta di usare lo shock blast contro i gambit non gli riesce bene viene inseguito fino sotto torre da Alex Hitch il povero Shen che ci lascia tower dive quindi azzeccato da parte dei gambit gambit che vedono Sona che grandissima Edward che non si smentisce mai Q più passiva procata su Jace ciao ciao Jace questi sono i danni di Edward prendo la kill no problem no veramente con Sona è veramente difficile non stilare perché fai troppi veramente troppi danni un attimo un attimo di lag io sono ai 15 16 troppo vediamo Genja che stila il blu nemico se lo trova lì dice ma perché no sono Ezreal ci metto un cavolo ho una skill ma visto che ormai stiamo qua perché no sono pienamente d'accordo con lui tanto mid lane c'è una questione da parte di Alex e Darien che vanno a cercare probabilmente di danneggiare un po' la torre anche se però Olaf non glielo permette cercando di difenderla con le unghie e con i denti tanto tutto ciò si stanno un attimino stanno un attimino rigurando chi farma chi insomma si cercano nuovi obiettivi si valuta un po' il team avversario cosa vuole fare vediamo 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 abbiamo la Worm classica costruzione ormai per Olaf altra Giant anche su Jinzao vediamo in cosa completerà se completerà la Sunfire Shen o andrà anche lui per una Worm l'altra parte abbiamo il Vampire Shatter per Jace quindi probabilmente anche lui andrà di Bitti e un piccolo argomento mid c'è Shen che giustamente fa il suo lavoro di Split Pusher tutto il resto degli altri due team è raggruppato mid tranne Ezra che è Split Pusher bot Ezra che può aiutare sia anche lui attraverso una globale ma solo con purtroppo non è Shen quindi può arrivare un ultimate che tra l'altro con la velocità che si ritrova non è detto neanche che colpisca il team avversario al contrario lo Split Pusher di Shen è sicuro perché si arriva scudando un amico e quindi non sei sicuramente dubbio sul fatto che potrà dare un manforte al proprio team pur restando dall'altra parte della mappa al contrario però non può farlo davanti davanti a Renekton che sarebbe capace di stunnarlo in pochissimi in pochissimi attimi rendendo vana rendendo vana la ultimate ancora c'è un'aggressione mid lane per Olaf che va in mezzo al team nemico non può essere fermato arriva Shen circa un buon town non riesce ultimate di Ezreal su buona parte del team nemico ne escono sicuramente meglio i Gambit nonostante non ci siano morti per i Meteor Makers che però stanno praticamente tutti a quasi niente di vita invece i Gambit hanno sia Darien che la duo support supportati carry pieni di talmente pieni di vita adesso oltre a avere la zona oltre a avere il zona e quindi tanto sostegno a loro disposizione si si e infatti cade anche la seconda torre che cade si seconda torre mi cade vediamo con l'immediato per andare a difendere il Baron giustamente da parte dei russi intanto che puliscono come possono ancora i team fight non sono decisivi grazie al tempo di spawn che non è ancora proibitivo si riesce a recuperare ciò che appunto si perde in un team fight torre si può cercare di andare velocemente magari a tentare lo stesso obiettivo di contro cosa che però non riesce Meteor Makers visto che i gambi sono velocissimi a recuperare le posizioni e a trovare nuovi obiettivi come per esempio chiudere i Meteor Makers in una morsa che però non si va a concretizzare preferiscono prendere il drago indisturbati quindi ancora più risorse a loro disposizione per un'eventuale team fight hanno circa 10 minuti per vincere la partita meno di 10 minuti si i gambit a meno di 10 minuti perché se la vincono oltre il 27esimo sono fuori i Meteor Makers l'ultimate da parte di Olaf per cercare di scappare insieme a quella di Sivir che però viene tranciata dall'ultimate di Ezreal questo Genja cosa ci fa vedere veramente un timing perfetto sulla povera Sivir che credendosi al sicuro sbagliava se sbagliava di grosso è grandissimo Genja ci vuole un applauso perché gli permette questa mira perfetta da cecchino di iniziare un Baron difficilmente contestabile dai Meteor Makers che si trovano senza il proprio AD Carry e con un Olaf che è dovuto prima sono costretto a scappare proverà al massimo lo Steel il povero Shen che si trova in uno contro uno in questo momento contro la AD Carry va dentro Shen vediamo questo Baron partono gli smite lo prende Jinzao riesce a prenderlo Timon Prox sono partiti gli smite non penso l'abbiano preso smitando intanto c'è Darien che tenta di rincorrere in qualche modo l'Olaf nemico lo aiuta il buon Nunu che riesce a far scappare appunto su Olaf dalle grinfie del coccodrillo arrabbiatissimo che inseguiva chiunque ci fosse lì che Baron fino all'ultimo proprio all'ultimo sangue all'ultimo smite questo Baron vediamo come lo sfrutteranno nei prossimi minuti abbiamo un bel vantaggio consistente 8k di differenza prendono ancora l'enerisma torre esterna è la penultima rimasta mentre c'è Jace che è splitpusha bot senza problemi in 4 contro 4 vediamo se riusciranno a difendere la torre della base sta convergendo anche Alex mentre mentre splitpusha ah no niente splitpusha mid sono stretto a uscire SNR Nekton da lì e lì sono lì cercano una sedia in tre mentre la torre mid vediamo se la regia ci propone quanti HP rimango è circa è circa a metà c'è anche Sona che aiuta sia Diamond che Alex a tirar giù la torre torre che esplode in questo preciso momento Inibitor scoperto per Inicure Makers che vengono ingaggiati da Diamond Prox Flash dopo aver sbattuto via Jinzao appunto per Jace che si trova in una situazione molto brutta ma Sivir becca insieme al proprio Nunu un Grinja fuori posizione ciò fa fa arrabbiare molto Darien che tenta di ingaggiare appunto i restanti Meteor Makers si tanca la torre finché può il Sivir aiuta e non poco anche torre top lane davanti di Inibitor distrutta Nunu che deve cercare di andare in qualche modo da team avversario perché gli rimangono pochissimi HP cosa che gli riesce grazie alla sua alla sua buff alla movina speed se l'è vista un po' brutta questo Nunu oddio sembrava di vedere la scena di prima con Sona che gli correva dietro per fortuna non se ne sono accorti della strada che aveva preso Paul Willamp e adesso devono prendere gli Inibitor scoperti ormai nella mid e nella top è la loro ultima chance che la potrebbero fare più problemi però pushare senza avere i super creep se avessero almeno preso un Inibitor forse sarebbe stato meglio non sono sicuro vediamo come si comportano adesso hanno 6 minuti 6 minuti da adesso inizia la death real dal tutto per tutto compra delle dora completa la seconda BF oddio il countdown sanno bene che è iniziato devono fare di tutto per cercare di vincere prima dello scadere di 27 minuti e 38 secondi tempo che sarebbe fatale ai Gambit nei confronti i Meteor Makers che riuscirebbero a vincere insomma a resistere più tempo ma subito super aggressivi i ex Moscow 5 sull'Inibitor mid dei Meteor Makers che ci deve lasciare in questo momento adesso andranno a fare il secondo Inibitor vedremo ancora poco più di 5 minuti pochissimo il tempo 5 minuti per cercare di vincere una partita così agguerrita contro avversari validi come i Meteor Makers che tenteranno di difendersi in ogni modo con le unghie e con i denti vedremo come andrà veramente interessato a questo finale dove va dove va dove va Diamond Diamond no non mi fai dove stai non è la strada che sta per vincere where you going presi i due Inibitor pensano a prendere l'ennesima torre esterna vediamo se gliela lasceranno molto probabilmente i Meteor Makers sono intenti a difenderla base base che è ancora al sicuro relativamente visto che i Super Creep stanno spawnando solo adesso sono stati appunto presi solo in questo momento e non credo che riusciranno a stancarsi ancora la torre della base di vigile 4 minuti 30 secondi 4 minuti e mezzo per i Gambit che tentano un engage con Alexic che però non riesce i Meteor Makers si sono messi in totale turtle mode non vogliono perdere questa partita o quantomeno vogliono perderla in più tempo di 27 minuti e 38 secondi cosa che potrebbe riuscirgli lo smite su Super Creep così per rallentare l'avanzata dei Gambit che continuano un push sfrenato si avventano sulle torri ci sarà l'engage eccolo qui l'engage bellissimo con l'ultimente di zona prendere ben tre componenti del team dei Meteor Makers costretti a beccare in qualche modo i Gambit non sanno se attaccare gli avversari o le torri sono più importanti le torri perché dovete vincere in qualche modo solamente tre minuti e mezzo tre minuti e mezzo per vincere per i Gambit mentre Diamond Prox tenta qualcosa sulla torre bot lane che in questo momento avete solamente tre minuti Gambit dovete decidervi che cosa fare del vostro del vostro futuro vedremo i Meteor Makers che cosa decideranno in proposito stanno regallando il tempo diventa sempre sempre di meno non sappiamo se gli Azubu Blaze stanno vincendo ricordiamo sono i buzz che costano di meno giusto per prendere gli Omguard e pozze della vita del mana per sostenersi durante l'assedio oddio ragazzi questa è una lotta all'ultimo secondo no mi si è frizzato un secondo lo stream si pure a me si è frizzato Shen tenta in ogni modo smaitalo smaitabile smaiterebbe pure le guarde avversarie se potesse guarda lì c'è anche anche Jice che cerca di pulire il più veloce possibile sono assediati totalmente i Meteor Makers devono resistere altri due minuti i Gambit hanno ancora tutta la possibilità di farcela due minuti non sono così pochi non sono neanche troppi fanno l'inibitor dei Meteor Makers l'inibitor l'unico inibitor ancora up quello è la torre che è ancora a metà si possono iniziare ad aggredire le torri ecco che succede però c'è l'engage naturalmente da parte dei Meteor Makers che vengono sbalzati via dall'ultimità i Diamond Prox va in mezzo al team nemico Darien costretti svariati flash vedremo invece le torrette che cosa ci diranno Genja continua ad attaccare prima torre che cade schiva perfettamente il taunt da parte di Shen che è esploso dal team di Gambit ancora solamente una torre per i Gambit Gaming hanno due hanno un minuto e trenta un minuto e trenta ce la faranno vedremo torre che va giù seconda torre c'è il Nexus scoperto Alex Hitch tenta il tutto per tutto andò dentro il team nemico non riesce ad uccidere nessuno Renekton vedremo si approfitteranno adesso dell'ultima zona perfettamente l'andata sul team nemico bellissima ultima azione dei Gambit che fanno quasi ace praticamente hanno distrutto il Nexus prima dei 26 minuti e 38 secondi oddio mio oddio non ci credo che ce l'hanno fatta non ci credo neanche loro ci credono cioè praticamente hanno giocato di merda tutto alla prima fase del torneo e si qualificano per un minuto e mezzo vabbè mamma mia oddio ragazzi vabbè GG a loro che vabbè 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 non si dice vabbè è una cosa del genere oddio non so che dire eh esatto cioè questo è un altro risorso oddio senza parole ce la fanno ragazzi adesso siamo appena assistito veramente a una a una corsa all'ultimo minuto e quando dico ultimo minuto dico veramente ultimo minuto l'ultimo avevano un minuto e 30 secondi aspetta da vedere se gli Azubu Blades hanno vinto perché magari noi ci dicono che hanno perso a quel punto sarebbe trollo lollo lollo ora siamo tutti a questa partita Blades contro Tours che purtroppo non possiamo vedere oddio veramente abbiamo le mani dobbiamo aspettare che lo dicano loro comunque tu non puoi vederlo tu che sei nella chat no nel tournament real non puoi vedere se sono già usciti se stanno ancora giocando si è vero tu puoi vedere vai su le custom vedi se stanno stanno giocando ancora non vedo custom non è di casa neanche private neanche private e vai a vedere che le so scrivi il nome di uno degli Azubu no si si sto vedendo se nella chat gli advins sono 100 can we get a score screen for course Azubu ok oh mio dio gambe gambe did it right 26 e 21 è stato il tempo ancora no non si sa ce l'hanno fatta però dobbiamo no cioè a livello di time ce l'hanno fatta però io sapevo se gli Azubu vincevano si 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 devono vincere gli Azubu e se no se no diventa se no diventa comunque 2-1 per i meet no scusami diventa 2-1 per i course e vincono e salgono insieme a gli Azubu 2-1 vediamo un attimino non si sa devono vincere gli Azubu no non sappiamo il risultato stiamo aspettando anche nella chat che dicano qualcosa per far dire i Moscow 5 insomma gli ex Moscow 5 i gambit gaming devono vincere per forza eppure avevamo dati i meteor maker si è vero e vincenti cioè perciò andando proprio tanto ce la siamo andate sui piedi è giusto così diciamo queste cose le paghiamo le paghiamo le paghiamo mamma mia turn over eh ma probabilmente sono stati fregati dalla pressione che gli hanno dato perché sono andati hanno fatto le torri lato poi metto andiamo mid e basta cioè sono stati in là torre 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 wayne la sluget allora ha detto che erano 13-3 per gli azubu l'ultima volta che ha visto ah si si quindi in teoria dovrebbero ebbè azubu 13 la chat è esplosa praticamente dopo che è finito il game ci hanno ci hanno ricompensato dopo quei due brutti game iniziali ragazzi qui proprio insomma quasi orgasmo bravo mio io ho risotto troppo quando ho visto doppia doran più doppia bt da parte di game madonna stavo ridendo si ha preso tutto quello che poteva prendere per avere sustain tutti tutti davi tutti quanti se poteva si sarebbe si sarebbe fatto 5 bt ma 5 doran altro che avrebbe speso tutti i soldi che rimanevano in doran ma no non avevano più un centesimo in taccia su tutto il prendibile hanno cambiato nome perché la loro associazione M5 appunto è stata ha rilasciato tutti i propri team in quanto il capo degli M5 è stato arrestato in America per riciclaggio di denaro sporco e la cosa delle carte di credito rubate eccolo lì comunque ora siamo aspettiamo molto trepidanti l'aggiornamento sui sui azubu vedremo cosa hanno combinato anche se arvi ci hai detto che stavano 13-2 13-3 13-3 ragazzi stiamo stanno anche noi di sapere l'esito nella partita azubu contro contro curse se vincono gli azubu come diciamo i pronostici direbbero cioè diciamo ci aspetteremmo questo vorrà dire che i gambit gaming passano il turno se no altrimenti no altrimenti lo passano il curse vabbè a parte palesi rimonte dei curse che arrivano fanno 10 punti 10 kill mangusta per rivederla devi aspettare che finiamo lo stream di oggi verrà uploadato Twitch la girerà di su ci lavorerà un po' e appena sarà pronta immagino se non domani dopo domani te la potrai rivedere SK giocano domani domani gruppo B SK Fanatic Azubu Frost e Absolute Legend no viene giocato in contemporanea perché semplicemente lo stream dovrebbe avrebbe dovuto finire dopo questa partita hanno il tempo in cui fanno queste partite qui vediamo la bellissima kill da parte di Genja di Ultimate su Sivir che stava scappando la stanno facendo vabbè rivedere ma se la stanno tirando per le lunghe 13-3 cazzo si vediamo vediamo oh io ho chiesto ah io sei tu che hai chiesto si 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 ovviamente anche su il canale di youtube youtube.com slash league of legend italy alla fine delle im ci sarà il verrà applaudato verranno applaudati tutti i match sperando che domani ci ci sblocchino il client almeno non lagga possiamo essere sincronizzati gestirci a un ottimo noi se domani siamo sul loro client tanta roba si 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 svegliano è veramente una cosa ottima no no l'im non è finito buggy man oggi era il primo giorno dell'im gruppo a domani ci sarà gruppo b e domenica ci saranno i playoff le finali le finali si 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 la fase finale domani cioè attenti perché il livello è sempre quello ci stanno SK Gaming Fanatic che ultimamente stanno stanno veramente facendo vedere delle grandissime partite Azubu Frost e Absolute mi sono imbrogliato Absolute Legend che non so niente male quindi saranno tutte tutte partite di altissimo di altissimo livello che poi l'unico team polacco rimasto gli Absolute Legend sono usciti se se escono i meteor ormai che rimangono le absolute ah beh si 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 ovviamente ricordiamo che sono in Polonia a Katowice come piace dire a Sarengo quindi diciamo che il pubblico è un po' di parte in questi momenti ovviamente per i per chi porta la bandiera bianco rossa se non sbaglio si bianco rossa sicuro che non puoi vedere il profilo di qualcuno dei che ne so scrivi il curso crs rux devo scrivere crs spazio rux se puoi vedere il profilo se hanno già completato la partita si vede no se l'avranno completata l'avrebbero scritto nella chat di Skype mi avessero posto quei bastardi su Skype beh io ho chiesto come sta andando il game con Sazuku morte morte cerebrale e vabbè normale sono impegnati chissà quante persone glielo stanno chiedendo a scuola ah vabbè si no vabbè ma che c'entra quella è la chat dove stanno 10 persone no questo è no no i fanatic non hanno dato forfeit i fanatic ci sono domani ci sono fanatic ripetiamo il gruppo B fanatic SK Azubu Frost e Absolute Legend si 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 beh non è detto che l'asiatico sarà sempre più forte l'ultimo IM che abbiamo visto quello di Cologne gli SK Telecom hanno perso contro i fanatic che sono due cose diverse ricordiamo giusto per chi si ricorda magari gli SK telecom si si dell'ultimo IM di Cologne non sono sono gli SK coreani quelli sono coreani non c'entra niente con gli SK con l'SK lista per sud korean qui non so sinceramente l'SK è tedesco che non mi ricordo comunque questi sono gli spagli il nome dovrebbe essere per capirci dovrebbe essere tipo Sprout che qualcosa del genere a proposito di Ocelot vedevo lo stream di Phantom Lord se non mi sbaglio e c'era lui che se la spassava a guardare il video di Ocelot e compagni quello dove pubblicizzano la la RAM stava morendo da ridere a riguardare e guardare ancora quel video e vedere Ocelot che lo fanno tipo robot tipo androide stava stava morendo non so se avete visto sto video c'è praticamente Ocelot che che va in un laboratorio e lo lo levano la maglietta e sembra come se fosse tipo un cyborg era con Dario sì sono Phantom Lord e Dario che si stanno divertendo a fare due occhio insieme a quanto pare tirano di più insieme che da soli no funzionano bene insieme funzionano bene insieme comunque curiosissimi di dire curiosissimi di capire come sta il il game del del millennio ormai perché c'è tutto live tutto lì concentrato dobbiamo capire era con Dario se mi dicono ah cioè ha esploso Trivello Trivellion Sibet Trivellioni Sibet fate dei nomi constefibili dalla mente umana ma è così fatta dire Trivellioni Sibet dai che domande sì ma è meglio caggio 55 a sto punto ma direi comunque sì c'hai ragione era Dyrus non era Phantom Lord se non mi sbaglio però ora non ricordo di preciso lo streamer chi era intanto non ci hanno ancora dato ma non ci conno considerazione niente è proprio zero poi c'è un tizio che sta dicendo non so perché su reddit dicono che dovevano vincere in 22 ah in 22 minuti no no ah no forse è vero aspetta la prima era finita in circa 21-22 mi sa che si sono eh sono i meteor che hanno macinato i i curse se non sbaglio i curse sono diventati i curse vabbè non penso che loro leggono reddit quindi se hanno vinto in quel tempo probabilmente si erano già fatti i conti i gambit di quanto tempo riserviva anche perché se no non avrebbero faticato tutto in quel modo eh questo in effetti avrebbero lasciato perro i 22 non so effettivamente sia la problematica in quel caso è il bello che non lo sanno niente neanche gli admin cosa sa come sta andando questa partita li avranno chiusi in uno sgabuzzino e ed usciranno solo quando uno avrà vinto oh curse verso la zubu io vedo una zubu won wow 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 dove dove reddit on è impossibile non c'è nessuno che sta streamando su reddit vedo una zubu o c'hanno informatori su reddit ah si è appostato qualcuno magari dei loro giocatori eh non lo so cred si a questo punto vabbè più o meno lo sapevamo che gli a zubu avrebbero vinto però visto che stavano 13-3 ancora non si sa niente uno pensa che c'è stato il comeback improvviso dei course comunque nel tempo amor c'è un saluto che mi richiedono Valentina di Enna un salutone di Sarengo eh come? è la Valentina di Sarengo no 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 questa Valentina è di mia proprietà diciamo ah è di mia proprietà ti sta seguendo o meno si ci sta seguendo perfetto dopo diri di postare Pix in privato eh ragazzi io mi ero settato per questa per diciamo per concludere verso quest'ora ehm credo che diciamo la 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 giornata sia cioè se gli a zubu hanno vinto le cose sono decise sì aspettiamo sì ah tu è abbastanza fondamentale diciamo mi dispiace lasciarvi così però vi vi ringrazio per la calorosa appunto partecipazione allo stream come vedete avvolta aria come per quest'ultima partita e vi lascio appunto alla allo scoprire come come finisce con con Armisa e Le God buona serata ragazzi e buona continuazione a domani sarengo intanto noi aspettiamo altri 2-3 minuti no devo sapere come ormai un po' mi manca la biondina di Cologna è vero era tanto carruccia sono pienamente d'accordo perché qui non c'è domandiamoglielo in chat su ligipedia danno su primo aggiungo il secondo course si mi sembra strano perché aspetta che sto riaggiorno anch'io vediamo un attimino allora danno danno che passano i corsi se passano i corsi hanno vinto eh ma è strano avevano ragione sui 22 minuti sul reddit aspetta mi sta esplodendo un po' il cervello però effettivamente quadra non riesco a trovare se tutti stanno 1-2 poi c'è il time il time più veloce dell'west diciamo sono i meteor makers che hanno fatto 20 erotti minuti 21 22 minuti no non trovo la classifica dove sta eh ce l'ha postata Hals dov'è? sembra aggiornata poi dice che ovviamente non erano andati non erano giusti i minuti è l'unica cosa che viene da pensare effettivamente ma non penso che i i si siano sbagliati così assolutamente no ma sì anch'io mi sembra difficile perché cioè gente di quel tipo insomma non stare attenti a una roba di questa importanza è difficile ma è danno che gli aggiungano vinto contro i curs però sì è possibile che siano sistemati in questa maniera nel gruppo perché magari su wikipedia sono no non sono neanche in ordine atletico perché sennò i gambit dovrebbero stare prima dei meteor makers difficile da dire non so ma stiamo se magari su skype sì no 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 su skype non stanno no se ne sono andati ciao ciao c'è ha detto gg a zoom a zoom più gg dicono eh allora sì probabilmente non hanno contato il il tempo eh sì non hanno contato il tempo su wikipedia sì evidentemente hanno solamente inserito il dato della della vittoria va bene perché vediamo io me ne vorrei andare però con la sicurezza comunque sono passati i gambit si dice budda sì dovrebbero essere passati loro in teoria sì dovrebbero essere passati loro ah no 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 aspetta aspetta no no è sicuro parole di voi voi dice l'ho appena letto sono passati i gambit ah e allora sì gg parole di voi voi se l'ha detto voi voi ah no ma sapevamo pure noi che passava a seconda del tempo perché non si sapeva c'era speculazione 22 27 il problema è quello perché se 22 come poi che è stato più o meno nel tempo in cui hanno vinto i meteor makers non ce l'hanno fatta se era 27 e 38 tempo che sinceramente non so da dove sono andati a prendere ha preso gli admin erano gli admin che hanno detto 27 e 38 ecco perché ho detto su reddit possono aver sbagliato a prendere il tempo ah e mi sembra strano che loro si siano sbagliati a dare il tempo sì certo più facili sbagliati su reddit che no gli admin devo dire va bene dai quindi no va bene a quanto pare è confermato sì comunque gambit dovrebbero essere passati sì 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 va bene benissimo allora sì facciamo i saluti ringraziamo sia Life is Pizza saremo che sono stati con noi sia Lollitalia per il canale tutto che saluti siamo già saluti finali ci saliamo domani alle 2 la mia dai volevo fare un saluto un saluto a tutti comunque saluto a tutti voi siamo tutti domani sempre di più alle 2 più possibile dice ora poi voi torna a studiare poi partiamo domani alle 2 con il gruppo B sempre solito orario domani dalle 2 in poi dalle 2 in poi più o meno si finisce quest'ora primo round SK contro Azubu Frost quindi benissimo buona serata non bevete e tornate presto o bevete